Ciao ragazzi, siamo Francesca e Ludovica e iniziamo con la lezione per voi. Tutti quando siete a casa, tanto non c'è niente da fare, potete fare la lezione di danza. Ci strecciamo, ci abboniamo, ci siamo anzilosate, ma cercheremo di essere il meglio per voi. Grazie. 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 Grazie per la visione 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 Grazie Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie. Grazie. E il vento sul piano. Grazie Solation, mi raccomando carichi. Grazie. 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 Spiro. E il contrargo. Fuori in aria. E... la. Ok.